È il diritto canonico che lo prevede. Compiuti 75 anni, tutti i Vescovi devono dare le dimissioni. Così ha fatto il Vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, nel giorno del compleanno, il 29 settembre, con una missiva a Roma ha comunicato la sua rinuncia all'ufficio, confermata al pubblico in un incontro al Rotary Club di Trieste. Ora potrebbe volerci qualche mese per l'arrivo del successore, che sarà nominato da Papa Francesco tra una rosa di candidati proposti dal nunzio d'Italia. Si concludono così 13 anni di episcopato di Crepaldi, da quando venne scelto da Benedetto XVI come successore di Eugenio Ravignani, che a sua volta aveva ricoperto l'incarico dal 97 al 2009. 13 anni in cui Crepaldi ha cercato di capire le particolarità di Trieste, città multireligiosa dove tenere sempre vivo il dialogo con le diverse confessioni. La cultura, una delle voci fondamentali per il Vescovo, che con la rassegna alla Cattedra di San Giusto fece confrontare uomini di fede con intellettuali e scienziati, insieme all'arte valorizzata negli incontri Arte e Fede. Sempre partecipe agli eventi che hanno segnato la storia della città, nel 2019 Crepaldi celebrò i funerali dei due agenti morti nella sparatoria alla Questura. Sua la riforma della Caritas, l'occhio e il cuore rivolti ai poveri e ai migranti della rotta balcanica. Attento ai temi del lavoro, ha seguito con attenzione i tormenti della ferriera e da ultimo la crisi di Varsila, che l'ha visto scendere in piazza insieme ai lavoratori. A Trieste Crepaldi resterà a vivere anche dopo le dimissioni, nella residenza di Opicina occupata da Monsignor Ravignani fino al 2020.